Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video dedicato all'aggiornamento futuro, ovvero Minecraft 1.21 Proseguiamo la nostra serie di video sulle novità di Minecraft 1.21 Siamo partiti dai feedback dell'utenza della community di Minecraft internazionale Siamo passati per le novità che vorrei io nella 1.21 e oggi è l'episodio fatto da voi Ovvero prendendo i commenti dello scorso video Quindi le 10 novità che vorreste voi dai commenti nella prossima versione del gioco Come sempre ovviamente non tutte queste novità arriveranno in Minecraft Ma a volte, per fortuna, alcune di queste ci arrivano Come fu l'anno scorso quando parlamo tanto dell'archeologia Poi effettivamente è arrivata in Minecraft 1.20 Prima di cominciare supportate la serie con un like E nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di queste idee Partiamo subito dalla prima posizione Non è una classifica quindi sono random Ma ovviamente non poteva mancare L'end update Non voglio perderci tempo perché ne parliamo in ogni singolo video Ma chiaramente anche voi nei commenti avete detto chiaro e tondo Che vorreste l'end update È la cosa più desiderata La cosa più votata Con più mi piace Ed è anche giusto così L'end update è in generale l'aggiornamento più desiderato in questo momento di Minecraft E se Mojang volesse far felice l'utenza Farebbero sicuramente La 1.21 come end update Non voglio approfondire l'idea qui Sappiate che arriverà un video totalmente dedicato all'argomento Per la seconda idea Abbiamo invece un'idea Che circola nella community di Minecraft Da parecchio tempo Parliamo di mob ambientali Dei mob che hanno giunto poche volte nel gioco Ad esempio pensiamo ai pipistrelli Potremmo dire i pesci Potremmo dire forse gli endermite Ma in realtà non sono unicamente ambientali Come i pipistrelli Cosa sarebbe un mob ambientale? Sarebbe un mob destinato solamente all'estetica Quindi ad arricchire il mondo di vita E appunto di bellezza E in questo caso avete suggerito l'aggiunta Di vari tipi di uccelli all'interno del gioco Un po' come avviene con i pesci tropicali Quindi immaginate uccelli di vari colori Di varie specie Che girano nelle foreste E nei biomi di Minecraft Sarebbe un'aggiunta molto carina Che renderebbe sicuramente il mondo più vivo E voglio approfondire questa idea Ricordandovi una cosa che dissi tempo fa L'idea degli uccelli in Minecraft Non è un'idea campata per aria È un'idea che nel sito dei feedback È considerata sotto esame Under review Quindi i programmatori l'hanno appuntata E potrebbe essere che prima o poi Questi uccellini in Minecraft arrivino Ricordando però Che potrebbe anche essere Presa l'idea E spostata su altri mob Ad esempio i pappagalli all'epoca Oppure gli avvoltoi Se facessero l'update della mesa Però sicuramente sarebbe un'idea molto interessante Nel commento vi siete spinti oltre Suggerendo di far sì che le piume di questi uccellini Droppassero appunto E che creassero una collezione di piumi differenti E ognuna di queste piume Usata come crafting per una freccia Dava alla freccia Darebbe alla freccia Un diverso effetto Molto interessante come meccanica Però un mob ambientale Per definizione non avrebbe drop E non penso che Mojang Aggiungerebbe gli uccelli in Minecraft Per farceli cacciare Sarebbe Non da Mojang La terza idea è un suggerimento che Io apprezzo molto E se ne parlò forse anche l'anno scorso O qualche anno fa Perché poi venne trattato Nell'aggiornamento della 1.18 Stiamo parlando di migliorare i corsi d'acqua Fiumi Laghi E mari in generale Questo perché? Perché i corsi d'acqua nel mondo reale Hanno una logica Le montagne con i ghiacciai alimentano il fiume Il fiume scende a valle Finisce nel lago Oppure finisce nel mare Facendola molto semplificata In Minecraft non è così Intanto l'acqua ovviamente non scorre Ma i fiumi a volte si perdono nel nulla Non ci sono veri e propri laghi Se c'è un lago In Minecraft di solito È o un acquitrino spunato male Oppure un oceano spunato In mezzo alle montagne totalmente a caso Ed effettivamente Su questa cosa ci hanno lavorato Nella 1.18 Rendendo i fiumi più larghi E più facili da esplorare con le barche Qui ne abbiamo un esempio Guardate come si allarga in questo punto Però subito dopo Si blocca con un nulla di fatto E questa cosa è davvero fastidiosa Sicuramente dovrebbero rivedere Un'altra volta Il concetto di fiume nel gioco Almeno il fiume E aggiungere un bioma Lago Perché Il lago non esiste Il vero lago non esiste in Minecraft Ma non penso lo faranno tanto presto Dato che è una componente del gioco Che hanno appena toccato Con la 1.18 La prossima idea è molto carina E sinceramente mi piace anche un sacco È l'idea che riguarda i minecart E la possibilità di prendere dei minecart E di linkarli tra loro Creando così dei treni Sarebbe molto interessante Nella proposta nei vostri commenti C'era l'idea di linkarli con una catena Oggetto che è già presente nel gioco E magari di creare veri e propri treni Utilizzando il minecart con fornace Un oggetto Anzi un minecart Che Alimentato con il carbone Può prendere la carica E viaggiare da solo Avete appena visto All'esempio cosa succede Se gli diamo un singolo pezzo di carbone Se noi mettiamo un altro kart davanti Chiaramente Per collisione lo andrà a spingere Creando un vero e proprio treno Solo che i vagoni non sono linkati Non solo sarebbe interessantissimo farlo Ma probabilmente ci hanno anche già pensato Nel trailer del minecraft live dell'anno scorso Vi ricordo che c'era un treno di mob Che andava verso l'orizzonte Verso il minecraft live Verso l'evento E erano in dei kart Che erano palesemente linkati tra loro Quindi sicuramente L'idea da qualche parte c'è Ma non l'hanno mai realizzata Perché non hanno mai realizzato questa cosa? Perché A conti fatti I kart vengono utilizzati solo per le farm E non per spostare i player Che preferiscono giustamente la velocità delle litra O se proprio le ghiaccio vie con le barche Quindi è un po' un peccato Ma i minecraft diciamo che non sono utilissimi nel gioco Per renderli davvero utili Bisognerebbe potenziarli in altri modi La prossima idea invece Non parla di un'idea singola Ma di un intero aggiornamento Un aggiornamento su cui dedicherò sicuramente Un video unico E stiamo parlando del dungeon update Un altro di quei temi Che ogni tanto circola E che piace tanto agli utenti Cosa sarebbe un dungeon update? Sarebbe un aggiornamento Dei dungeon ovviamente Spesso con le nuove versioni del gioco Arrivano anche nuovi dungeon Nella 1.20 le trailer ruins Nella 1.19 le città antiche E questi dungeon ultimamente Sono molto complicati Le trailer ruins sono uniche Possono sponare in diverse varianti E i bastioni Ad esempio nel nether Che adesso non sto trovando ovviamente Sono molto interessanti Perché ne esistono 4 versioni Ma le vecchie strutture Non sono altrettanto interessanti Sono un po' vecchie Un po' adattate E sicuramente arrivano da un altro tipo di design Da un'altra idea del gioco Per questo motivo Un aggiornamento del genere Non dovrebbe solamente aggiungere strutture Ma più che altro Modificare e aggiornare Quelle già esistenti E direi anche in particolar modo Lo stronghold Che è una struttura fondamentale E che lasciamo davvero a desiderare Potrebbero quindi aggiornare le strutture Rendendole complicate E utili alla lore Come le ultime Anche perché ormai sono più importanti le strutture Hanno i template Hanno dei tesori utili E quindi perché non renderle più belle O renderle delle sfide più interessanti E se pensate che non sia necessario Io vi ricordo che La piramide nel deserto Ha sempre questa trappola È sempre uguale E ormai non ci casca più nessuno La prossima idea È una di quelle Che forse tra un anno Saremo qui a dire Che bello L'hanno aggiunta davvero nel gioco Parliamo di un nuovo boss Perché dico così? Perché sappiamo già Che un nuovo boss È nei piani di Mojang Hanno rilasciato un video Tempo fa Dove Facendo un mini Fact time Chiedevano a un villager Se Avrebbero Aggiunto un nuovo boss O se pensavano Di aggiungere un nuovo boss Al gioco Il villager Faceva sì con la testa Quindi Un gesto inequivocabile Stanno pensando Di aggiungere un nuovo boss Al gioco E potrebbe essere Già nella 1.21 Vi ricordo Che l'aggiunta di un nuovo boss Di solito Si lega A qualcosa di molto grande Come potrebbe essere Una dimensione nuova Anche se un po' troppo presto Ma magari anche L'aggiornamento Di una dimensione esistente Come nel caso del land Stiamo a vedere Incrociamo le dita Ci sono alte probabilità Però Di vedere un nuovo boss Già nella 1.21 Parliamo ora di Letti All'interno del gioco I letti di minecraft Possono essere colorati Con le 16 varianti Della lana Ma nel gioco Abbiamo una cosa Molto bella Ovvero i banner I banner personalizzabili Possono essere applicati Agli scudi Per creare Dei pattern unici Quindi perché Non applicare Questi banner Anche letti E creare in qualche modo Dei letti unici E personalizzati Sarebbe molto bello Ed è un'idea Che nel sito dei feedback Ha un sacco di like Quindi è una delle cose Per la quale La community Ha spinto di più E per questo punto È necessario Sorvolare Una Birch forest Perché nella 1.19 L'aggiornamento Del wild update Dovevamo avere Una rinnovata Birch forest Ma abbiamo ancora La vecchia Foresta Di betulle Relativamente brutta Possiamo dirlo Bene Una delle vostre idee Più quotate È proprio quella Di un biomap date Un aggiornamento Che non vada Ad aggiungere Altri biomi Ma che vada A migliorare I biomi Già esistenti Quindi non come La vecchia 1.7 Ma un aggiornamento Che aggiunga Più vita Magari più piante Fiori Arboscelli Cespugli Eccetera eccetera Io sono assolutamente D'accordo Era il punto Della 1.19 Ed è stato Un grande flop Purtroppo Da parte di Mojang Non riuscire a rispettare Quelle aspettative Anzi Quello che avevano detto Loro stessi Io Come punto Di riferimento Anche in questo video Prendo il mondo Che sto portando Nella serie Della Cobblemon Perché con quelle mod Diventa una roba Spettacolare Ci sono un sacco Di fiori Di piantine Di vegetazione E fa tutto Un altro effetto Minecraft Non è sicuramente Un update facile Da aggiungere Perché richiederebbe Un sacco di nuove cose Da testare E poi da Rendere compatibili Con tutte le versioni Però Lo avevano promesso Nel wild update Lo riprenderanno mai? Non lo so ragazzi Non lo so Ma sarebbe molto interessante Penultima idea È l'idea Delle stagioni Un'altra Delle proposte Più quotate Nella community Di Minecraft E che ovviamente Anche voi desiderate E me l'avete fatto sapere Nei commenti Le stagioni Porterebbero Un cambiamento Drastico al mondo Perché a seconda Della stagione Potrebbe nevicare In alcuni biomi Dove normalmente Non nevica Oppure potrebbero Fiorire le foglie Durante la primavera O potrebbe togliersi La neve Nei biomi freddi Durante l'estate Insomma Il tempo Il clima Potrebbe influenzare L'aspetto Dei biomi Le foglie autunnali Diventano rosse Eccetera eccetera Ma non sono Magari anche il gameplay Con un sistema di Caldo e freddo O magari con dei mob Che compaiono Durante una determinata Stagione E in altre no Qual è però Il grande problema Delle stagioni Il grande problema Delle stagioni E che il mondo Di minecraft È immenso E se viene l'inverno E devi far nevicare Ad esempio In tutte le pianure Come fai a realizzarlo? Perché Faresti nevicare Nella pianura Che abbiamo qui davanti Ma se c'è una pianura Non caricata In un chunk A 20.000 blocchi Di distanza Come fai a dirgli Di far nevicare lì? Sarebbe Difficile Da gestire E probabilmente Gestire un mondo Che muta Ogni stagione Così grande È il principale ostacolo Alle stagioni stesse Ma se volete Giocare con le stagioni Vi faccio presente Che uno sviluppatore Di Mojang Aveva rilasciato Un datapack Che le aggiungeva In minecraft L'unico problema È che in quel datapack Tra l'altro Ci abbiamo fatto anche un video Si notava il limite Di cui vi parlavo Quindi le stagioni Aggiornavano i biomi Attorno a te Ma solo quelli caricati Nella render distance Quelli al di fuori No E questa cosa Stonava davvero tanto Ed era davvero bruttina Da vedere Però Vi lascio il video Nelle schede Così se volete Potete recuperarlo E infine Hanno aggiunto Questi bellissimi oggetti Ovvero le shared Che raccontano una storia Tramite i vasi Hanno aggiunto i template Che chissà come sono finiti All'interno Dei vari dungeon Sparsi nel gioco E hanno aggiunto nel tempo Un sacco di cose Come anche I dischi musicali Che sembrano In alcuni casi Raccontare una storia Il disco rotto Ad esempio Il disco 11 E il disco Del Deep Dark Tutte queste piccole novità Stanno lentamente Aggiungendo Una lore Al gioco E anche voi Nei commenti Vorreste più lore All'interno del gioco O addirittura Una storia Da scoprire Prestabilita C'è solo un piccolo problema Come sempre La volontà di Mojang Non è quella Di aggiungere Una storia scritta Nel gioco Quindi che ne so Nell'anno 200 Avanti Cristo L'Ender Dragon Conquistò L'Ende Bla 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 Ma vogliono dare Un sacco di piccoli elementi E qui e là Che facciano fantasticare Il giocatore In modo che sia Il giocatore stesso A attribuire Una storia Al mondo di gioco E Diciamo A fantasticare Su quale possa essere L'origine Delle strutture Dei mob Eccetera Un po' Diciamo Alla Dark Souls Ma con ancora Meno dettagli Ma sebbene Non verrà mai aggiunta Una storia vera e propria Nel gioco Sappiamo ormai Per certo Che la direzione Sembra Voler essere Quella di aggiungere Più lore Al gioco Quindi piccoli elementi Che creino Pian piano Una narrazione Del passato Soprattutto del mondo Di gioco E che magari Ci possano far Appunto Ricollegare Vari pezzi In modo che La community stessa Crei una storia Semicanonica Del mondo di Minecraft E a questo proposito Arriverà Prossimamente Una serie Dove sarò Io stesso A ricreare La lore Di Minecraft Detto questo Per questo video È tutto Ragazzi Non so se farò Un altro video Di questa miniserie O se passerò Direttamente Allo step successivo Fatto sta che abbiamo Ancora un sacco di cose Di cui parlare E questa estate Sarà piena di speculazioni E di idee Per la 1.21 Fatemi sapere Se l'idea vi piace Con un bel like Noi ci vediamo Stasera in live Alle 20.30 E domani Con un nuovo video Un saluto da Eren Ciao a tutti